ciao sono giulia la vostra insegnante dalla dante alighieri di hong kong come promesso oggi parliamo della prima coppia di falsi amici iniziamo con camera e camera camera in italiano significa camera in inglese significa the equipment for taking pictures che in italiano si dice macchina fotografica vediamo due esempi pulisco la camera i clean the camera quindi ripetiamo insieme in italiano camera significa room macchina fotografica significa camera ripetete con me camera macchina fotografica nel prossimo episodio vedremo la coppia caldo cold voi conoscete la differenza we hope this short lesson can help you find the true italian friends to better use them in your daily life so subscribes our channels thumbs up and leave your comments below and see you next week to discover the next couple of falsi amici